Passa da 10 a 5 giorni la quarantena per le persone non vaccinate o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. È quanto prevede una circolare del Ministero della Salute che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per contatti stretti. Secondo il provvedimento che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi, la cessazione della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare FFP2 anche per i giorni successivi. La misura dei 5 giorni di quarantena nei casi di contatti stretti ad alto rischio con positivi, si legge nella circolare, si applica ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni e ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da covid da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo. Diverse sono le disposizioni per chi invece ha la totale copertura vaccinale e ha fatto anche la dose booster o è guarito negli ultimi 120 giorni, per i quali è disposta in questi casi, come già previsto da una precedente circolare del 31 dicembre scorso, solo l'autosorveglianza di 5 giorni e l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni in tutto. Sempre se non sono emersi sintomi, non serve un tampone negativo in uscita, così come già prevedeva il decreto di fine dicembre. Per i contatti stretti asintomatici che, si legge nella circolare, abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.